Innanzitutto questo non è un vulmine al cessereno, sono anni che ho tirato fuori questa notizia che viene da accordi pregressi. Debo dire purtroppo che a distanza di 10 anni per il Santimotio ancora non si fa nulla. Anche nel riuscire ad aprire un reparto come Emodinamica si parla di concorsi di cardiologi ma non si parla di specialisti di Emodinamica. Quindi ho molti dubbi su quello che potrà fare la Regione e che sta mettendo in campo per fare la Regione. Ad eccezione di sentire che utilizzeranno 14 milioni di euro per adeguamento sismico della struttura. Non credo che questo sia il vero problema del Santimotio. C'è chi si preoccupa anche della nuova missione professionale di Nicola Rocchia che da Stermoli andrà a Cardarello? Da una parte ci fa piacere perché dimostra che nell'ospedale di Santimotio ci sono professionisti validi. E proprio dal Santimotio che in qualche maniera sono state lanciate in passato delle iniziative sanitarie che in altre zone del Molise non esistevano e mi riferisco a Emodinamica. L'Emodinamica in Molise è nata presso il Santimotio. Ora guarda caso l'unico ospedale che è carente di Emodinamica è proprio il Santimotio. Per Nicola gli possiamo semplicemente fare un in bocca al lupo. E anche questo tutto sommato diventerà un problema per capire chi sarà il sostituto di Nicola Rocchia. Perché finora il pronto soccorso di Sermoli è servito proprio a sopperire alla carenza di organico e di infrastrutture e strutture sanitarie presenti su Santimotio. E quindi eravamo costretti poi a delocalizzare i nostri pazienti in altre strutture. Speriamo che la politica regionale si dia una mossa riguardo a tutto questo.